ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video allora oggi sono qui per parlarvi di una notizia che è uscita ieri dalla gazzetta dello sport che ha svelato un'ipotesi che secondo me è molto difficile l'ipotesi che sia i Cardi sia i Spalletti il prossimo anno possono venire a Milano insieme secondo me è un'ipotesi che non stanno in cielo e in terra perché già all'Inter i Cardi e i Spalletti avevano un rapporto oggi poco burrascoso mi sembra difficile che si ritrovino quest'anno cioè l'anno prossimo insieme nel Milan io magari posso credere a uno dei due ma non a tutti e due personalmente mi piacerebbe di più se arrivasse Spalletti mi piacerebbe di più se arrivasse Spalletti perché pur essendo un allenatore che in carriera non ha mai vinto nulla è un allenatore che bene o male la squadra te la porta sempre in Champions League quando prende la guida della squadra quindi in questo senso sarei molto contento non sarei contento per niente invece se arrivasse i Cardi anche secondo me è un buonissimo giocatore ma nulla di più non tanto per lui eh ma quanto per il suo procuratore che sappiamo tutti che è sua moglie vantanara che causa più problemi che altro quindi se arrivasse i Cardi al Milan secondo me si andrebbe ad aggiungere ancora più benzina sul poco di quanta già ce n'è in questo momento e di questo non ne abbiamo bisogno per niente va bene ragazzi questo video finisce qui fatemi sapere cosa ne pensate lasciatevi anche commento iscrivetevi e ci vediamo al prossimo video ciao e sempre Forza Milan